Hai mai pensato a quanti pianeti ci sono nel nostro universo? Beh, sicuramente due sono meravigliosi. Andiamo a scoprirli insieme. Il pianeta mareschio è completamente avvolto dagli oceani. L'acqua è ovunque. Il primo abitante è Dosa. È proprio il mago dei tuffi. Il suo grande sogno è partecipare agli Olimpiadi. Dirdo invece ha un grosso problema. Non sa nuotare. Però vabbè, dai, sta a galla. Ed ecco Ancoraleo, con la sua più grande qualità. Può stare sott'acqua all'infinito. E poi Polcuffio, che sembra un polpo ed è super affettuoso. Chiunque incontri lo deve abbracciare. Ma torniamo alla nostra galassia, dove tra i tanti pianeti questo è proprio tutto da scoprire. Su Foro Foro la natura ha proprio esagerato. Ma fate attenzione. Perdersi è un attimo. A proposito, questo è Sentier che cerca il tesoro di Foro Foro. Lo troverà mai? Ed ecco Bussolot. Non c'è guida con più abilità. Questo è Bacciolo. La sua passione? I frutti rossi. Ne mangia chili e non ingrassa mai. Fortunato lui. Mappier è il più saggio del pianeta. Se non ci fosse, dovremmo inventarlo. Insomma, anche questa avventura è finita. Però continuate a guardare il cielo. Sicuramente scoprirete cose meravigliose. Sì. Sì. Grazie a tutti